e niente poi io buonasera dovete capire che senti proprio il rumore mia moglie da stamattina che sta cucinando capito praticamente sta preparando il manzo il pollo le verdure si sta sbattendo da stamattina poi vi farò vedere cosa sta cucinando l'acqua quasi bolle e qui sbligati che l'acqua bolle grande da dom questa mia moglie una buona eccezionale comunque manzo verdure pollo abbiamo degli indizi l'acqua bolle l'acqua bolle 3 allora praticamente precedentemente apri i coperchi si apri le vale plastiche buttare nel cestino prendi l'acqua la fai bollire dopodiché tu versi che può che eccezionale quindi facciamo c'è anche il segno quindi non potete sbagliarvi e uno e due due e tre e tre e quattro riponete ancora i coperchi e lasciate agire qualche minuto quanti minuti qualche minuto esattamente facciamo cinque minuti cinque minuti ma non è finita non è finita ok a dopo c'è quella ve l'ho detto quella è una cuca straordinaria capi fatto pollo manzo verdure tutte cose a india capi saccavi adesso li scuola prima e poi li sbatti in padella vero no ha comunque c'è scritto 3 è scritto 3 minuti 3 minuti 3 minuti ma fa 3 minuti tempo di apparecchiare sembra apparecchio allora una volta che l'abbiamo scolato con lo scolapasta no perché almeno non vi bruciate però tutta questa esperienza perché se non si fa non si sa quindi adesso noi andiamo a gocciolare per venino andiamo a mettere nella padella qua troppa bravo mia moglie troppa bravo amori poi delicatamente prendere anche il famoso manzo manzo e le famose verdure fai vedere le verdure fai vedere le verdure manzo per vedere le verdure wow quante verdure e poi anche non è finito e poi c'è anche la famigerima salsa di soia questo rende più caratteristico il piatto la pietanza andiamo a versare ma preparate mia moglie stasera non hai visto come versavo delicatamente fai vedere che poi a casa vogliono sapere come si verse capi quindi voi tagliate e stipate così 222 tutte quattro ne vanno sono uno a porzione una porzione sono precisi quindi voli versate diversare tutti e quattro questo è il terzo questo è il quarto adesso noi accendiamo il fuoco accendiamo accendiamo il fuoco accendiamo il fuoco e andiamo a mescolare ok che piatto quindi quindi stasera mangio le carni bianche quelle rosse le verdure mangio tutte cose capi e deve friggere così deve friggere assolutamente il trucco è friggere così a posto stiamo adesso ci vediamo per l'impiattamento per l'impiattamento per l'impiattamento è ovvio ma fa vedere pure come si mangia quello ognuno mangia a modo suo ho capito ma guarda che scelto qua ma fino a vedere terzo piano perva è lungo e lungo lo spaghetto questi sono piatti di porcellana assolutamente porcellana finissima questo babbo natale non ci ha portato alla stoviglie quindi fino a quando non l'avremo a casa andremo di plastica andiamo a mangiare in dei piatti di plastica e va bene tanto importante la pietanza succulenta il piatto è di contorno quando la pietanza è buona ora non vedo i vari mangiato lo sai ah ah ma guarda qua e ma quale moglie ti prepari fache bon in questo modo? Non ti chiede mai capace che ho censurato, non lo tassi capite? Ma che ti censura? Me facciam su un po' parlare pure questo proprio Ma mamma mamma E che facciamo? E questo è il cuore fache bon Lasciamo un po' del manzo e delle verdure del pollo, ma stiamo pazzi, siamo a posto, io direi che ci siamo, possiamo andare a mangiare, se commettiamo a mo' di selfie, noi vi auguriamo una buonissima serata Hai battuto un dente, siamo senza birra, tu pensa dopo la super tennis, poi ci stai fino, poi dobbiamo fare quel video particolare, l'unicorno, stiamo a posto, una buona serata, buona cena, quel cuoco esagerato che tengo, che cazzo proprio, Larry Muffin e Tommy a canaglia, che sono io? Passati i tre minuti, attenzione a scolare perché potete accidentalmente bruciarvici con l'acqua bollente, quindi prendete le dita e fate questo gesto Wow, troppo bravo, questo non lo taglio No, 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 no Grazie a tutti.